Quattro cose che succedono quando non scrivi, non chiami, non insisti. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco ufficiale e seguimi su TikTok. E veniamo, veniamo al tema, veniamo al tema. Allora, quattro cose che succedono quando non scrivi, non chiami, non insisti. Le malgascione normalmente hanno questo difetto, tra virgolette, di fabbrica, che tendono a, quando sono coinvolte ovviamente, a inseguire il maschio, a diventare rompicoglioni galattiche, diciamo così, scrivono, martellano, e lo invitano, e fanno il verso della regosta bollita, la malgagosta, e vogliono a tutti i costi il maschio, lo cercano, lo implorano, e scrivono, ma l'ho invitato lì, l'ho invitato là, ovviamente se gli interessa, no? Perché questo è il presupposto fondamentale, se non gli interessa, è facile fottersene. E beh, questo è, come dire, il canto del cigno della seduzione. Gni! È il bacio della morte e della seduzione, il verso della malgagosta, la malgacozza che fa la ragosta, la malgasciona che fa la ragosta. Allora, non devi assolutamente fare cose di questo genere, cara malgasciona, devi, invece, fare esattamente il contrario. Quando un uomo ti interessa, anziché fare, gni, io lo amo, io lo amo, ma io lo amo, e credere alle stronzate che dice Dante Alighieri, amorca nulla amata, ma perdona, il mio amore farà sì che lui mi amerà, queste sono puttanate. Non è assolutamente vero. Prova, prova, provare per credere. Non c'entra una mazza il fatto che tu ami qualcuno per essere riamata o riamato. Questo è un, come dire, è qualcosa che non c'entra assolutamente nulla, non serve assolutamente a niente. Quello che dovresti imparare a fare, cara, malgasciona, è di ottenere, diciamo, la tua dignità, dare valore alla tua dignità e alla tua autostima. Questa è la cosa fondamentale. E esprimendola in che modo? Esprimendola semplicemente evitando di scrivergli, evitando di chiamarlo, evitando di insistere. Cara malgasciona, perché se tu chiami, insisti e fai questo, non ottieni nessun risultato. Questo te lo posso garantire. È, diciamo, verificabile, insomma, verificabile totalmente. Che cosa ottieni se non scrivi, non chiami, non insisti in prima istanza? Perché poi vedremo quando ti cercherà lui cosa devi fare. Beh, intanto, se tu fino a ieri l'avevi cercato, l'avevi chiamato, l'avevi fatto la malgacozza, otterrai il dubbio. Il dubbio che non ti interessa più. E questo dubbio, diciamo così, è molto utile, perché nella seduzione il dubbio è un fatto fondamentale. Qui non deve scattarti il pensiero, gniiii, ma se poi non mi cerca più. Se non ti cerca più un coglione di meno, ma tanto presto saremo a 8 miliardi, se no già non ci siamo, di persone su questo pianeta. Per cui, voglio dire, 8 miliardi, un coglione più, un coglione meno, non è che ti cambia la vita, no? Quindi, se non ti cerca più, amen, avanti un altro, come dire, col prossimo andrà meglio, un coglione di meno, poverino, non sa quello che si è perso. Io sono la persona più importante del mondo, io mi accetto così come sono. Ma potrebbe anche darsi che invece abbia voglia di accertare. Perché quando succede questo, potrebbe avere voglia di accertare. Quindi questo è il primo dubbio. Poi, tra l'altro, se tu coltiverai, diciamo, le tue pagine social, perché la prima cosa che farà è venite a spiare sui social. Questo te lo posso garantire. Prima di fare qualunque accertamento, gli verrà il dubbio, dice andiamo a vedere sui social. E se tu, sui social, cara Marga Shona, hai creato un bel profilo, ti sei messa un po' più gnocca, ma non puttana, ti sei, diciamo, hai, insomma, messo anche foto interessanti, che fai tante cose, insomma, che vieni vista come una femmina, come una donna di qualità, avrai la possibilità di piacere a tanti uomini e quindi tanti uomini ti scriveranno, insomma, già, che poi questo è utile da un punto di vista social, perché potresti fare nuove conoscenze. In più, avrai, diciamo, una grande possibilità, quella che lui pensi che ci sono altri uomini. E intanto, tra l'altro, ci dovrebbero essere, cara Marga Shona, perché non è che puoi dare l'esclusiva. L'esclusiva va data soltanto quando hai una relazione stabile con la quale vuoi portare avanti una situazione, altrimenti non devi dare proprio una bella minchia, non un'esclusiva. Ecco, questo è un po' il concetto, no, di fondo che tu dovresti portare avanti. Quindi questo è veramente importante, cara Marga Shona. E questo è il secondo dubbio, che tu possa avere altri uomini. Terza cosa che capita, quando lui nascono questi dubbi, vedono tanti uomini che ti cercano, scatta la preselezione. E la preselezione cosa vuol dire? Beh, se questa Marga Shona piace a tanti uomini, vuol dire che sarà una donna interessante, vuol dire che sarà una donna di valore, vuol dire che sarà una donna, insomma, che ha un suo perché. Questo te lo posso garantire, no? Scatterà sicuramente questa situazione. Per cui tu avrai una grande possibilità, no? Quella di essere vista come una donna più interessante, una donna più intrigante, una donna che piace fondamentalmente. E quindi scatterà l'ultima cosa, la quarta, che per magia, diciamo, capiterà una cosa interessante, che lui ti cercherà e sarà disposto a investire su di te. Cioè non ti inviterà più soltanto al parcheggio del cimitero, giovedì sera, diciamo, e presentandosi già con l'attrezzo in mano, per dire, no? Ma inizierà a fare degli inviti, un po' magari in un ristorante, così, eccetera. A quel punto lì tu potrai invertire la crescita, invertire la rotta, mettere dei vincoli, amplificare gli antagonisti, amplificare i suoi turbamenti, cioè imparando a farlo parlare, eccetera, evitare di dargliela, così, diciamo, investirà sempre di più su di te e passerai fondamentalmente da un ciclo nefasto, negativo per te a un ciclo virtuoso in cui ci sarà più coinvolgimento da parte sua. Questo devi tenerlo presente, cara Marga Shona, è un fatto fondamentale. Quindi agisci in questo modo e vedrai che queste quattro cose che succederanno quando smetti di scrivere, di chiamare e di insistere veramente la tua vita cambierà in me. Seguimi su Instagram Massimo Trammasco Ufficiale su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale. Iscrivendoti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Inoltre ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti!